...pasqua nella capitale del mondo cattolico. Il somo pontefice della loggia esterna di San Pietro benedice l'immensa folla convenuta a Roma da tutte le parti del mondo per le feste pasquali. SONTA voters, i시는 chieders, holla esterna di San Pietro, di San Pietro estamos invogliati alla 톤. bandvous�날 Grazie a tutti. Grazie a tutti.